Ci sono grandi novità che riguardano gli stipendi e le pensioni. Gli italiani in banca potranno vedere nei loro conti correnti un aumento. Non tutti però ne avranno diritto. L'inflazione degli ultimi mesi ha comportato un grave rincaro di tutti quei generi quotidiani, di cui le persone hanno bisogno per sostentarsi. Se in un primo momento si era parlato del bonus una tantum da 200 euro, ora si sta invece affrontando il tema relativo all'aumento delle pensioni e degli stipendi. L'importo concesso verrà spalmato per sei mesi per tutti i lavoratori, mentre verrà concesso in tre mandate per i pensionati. È però necessario essere in possesso di alcuni requisiti, in quanto gli importi non saranno uguali per tutti, ma verrà esaminato il reddito del cittadino, prima di procedere al pagamento di questo bonus. Il primo punto da approfondire riguarda gli stipendi, i quali potranno aumentare in maniera diversa, sulla base di alcune determinate caratteristiche. Nel caso in cui non si superassero i 35.000 euro l'anno, si potrà godere di un esonero contributivo del 1,2%, che andrà ad aggiungersi a quello entrato in vigore a gennaio dello 0,8%. Su uno stipendio di 1.000 euro si parla di un aumento di 12 euro che verrà concesso per circa sette mesi, incluso il mese dedicato alla tredicesima. Si parla quindi di un aumento totale di circa 84 euro, cifra che va ad aumentare per chi guadagna di più. Ovviamente si tratta di aumenti che non sono in grado di fare la differenza, ma che, comunque, possono fornire un piccolo aiuto a tutte quelle persone che faticano ad arrivare alla fine del mese. Altrettanto interessante è il tema relativo al pagamento delle pensioni che, al momento, sono state rivalutate in chiave transitoria. Per tutte le persone che hanno diritto a questo tipo di trattamento, scatterà una sorta di aumento, legato al pagamento degli arretrati. L'incremento sarà del 2% e verrà erogato su quattro mensilità e, ancora una volta, la tredicesima verrà conteggiata fra queste. Su una pensione di circa 500 euro, l'aumento potrebbe essere di circa 11 euro al mese, favorendo quindi un privilegio di quasi 50 euro per i mesi previsti. Bisogna però ricordare che, sia nel caso degli stipendi che in quello delle pensioni, tutti i conteggi sono effettuati sulle cifre lorde e quindi bisogna calcolare anche tutte le spese da pagare all'IRTEF. Anche in questo caso, però, lo Stato ha deciso di intervenire applicando delle regole che vadano a ridurre il peso delle imposte che ogni pensionato o lavoratore deve pagare una volta al mese. Si tratta di un piccolo tributo che lo Stato ha deciso di offrire ai propri cittadini per far sentire loro la propria vicinanza, in un periodo storico così difficile. Non sappiamo ancora se questo funzionerà e avrà dei risvolti positivi sulla società, ma, sicuramente, si tratta di una riforma da non sottovalutare. Eravate a conoscenza delle riforme indette dallo Stato per aiutare i lavoratori e i pensionati, residenti in Italia? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione. Grazie a tutti!